Una brutta storia di maltrattamenti in famiglia culminata con l'arresto di un 50enne aquilano. La squadra mobile dell'Aquila ha eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 50enne dell'Aquila. Un provvedimento che arriva dopo le indagini svolte dagli investigatori della mobile che hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'uomo per reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, ricostruendo attraverso le testimonianze dei congiunti episodi di violenza compiuti dallo stesso nei confronti della coniuge. Le indagini sono state avviate infatti a seguito della querela presentata dalla moglie e hanno evidenziato che l'uomo dal 2017 in più occasioni avrebbe maltrattato la donna anche in presenza dei figli minori, con vessazioni morali e fisiche, tanto che la donna è dovuta ricorrere più volte alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Il comportamento dell'uomo ha reso la vita familiare davvero difficile per tutti gli altri membri della famiglia che vivevano ormai in un clima di terrore e disagio. All'uomo sono stati dati i domiciliari nella casa da cui da tempo la consorte insieme con i figli si era allontanata.